Io penso che la prima questione sia mettere al centro dell'agenda del Paese la scuola e dentro questo affrontare i grandi mali della scuola che c'erano prima del Covid e che sono esplosi durante la pandemia. La scuola italiana fa fatica ad essere un grande motore di opportunità sociale per i ragazzi più deboli e questo ha a che fare con uno dei problemi più gravi che la scuola ha, il fatto che non si investa abbastanza nei docenti, il fatto che manchino docenti a copertura di tutte le classi, il grande tema del precariato è un'assoluta urgenza non solo per i docenti che sono precari ma per il nostro sistema scolastico, per il diritto all'apprendimento che hanno gli studenti italiani. E spero che su questo il nuovo ministro dica parole molto coraggiose che cancellino una grande ipocrisia, quella di chi non ha voluto affrontare il tema del precariato nascondendosi dentro la retorica del merito. In realtà sappiamo che sconfiggere il precariato è proprio il modo migliore per arrivare alla qualità dell'insegnamento e quindi io sono assolutamente convinto per gli incontri che faccio con tantissimi docenti, quindi so perfettamente che invece il precariato è un modo per tenere la docenza lontana dal merito perché è un modo di mortificare la professionalità dei docenti oltre che di mortificare, perché il precariato significa impedire continuità didattica e quindi di mortificare appunto il diritto allo studio dei nostri studenti e quindi la qualità complessiva del nostro sistema scolastico. C'è bisogno di una riforma del reclutamento, c'è bisogno di farlo subito, io penso che questo sia il tema più urgente, perché davvero dobbiamo fare in modo di arrivare a settembre, che sembra lontano ma in realtà è vicinissimo, con tutti i docenti in cattedra e quindi evitare la falsa partenza di questo anno con oltre 200 mila precari. una grande quantità di questi sul sostegno, cosa assolutamente grave e allarmante perché sappiamo quanto questo anno di pandemia e di didattica a distanza pesi soprattutto sui ragazzi più deboli, quelli che hanno bisogno di educativi speciali, quelli che hanno bisogno del sostegno. e io penso che noi nelle riforme strutturali che dovremmo fare utilizzando i fondi del recovery fund, utilizzando gli altri fondi europei, li dobbiamo utilizzare per ripensare il tempo scuola, è un elemento fondamentale per rilanciare la scuola dell'inclusione, il dobbiamo pensare per reinsediare la scuola in alcuni territori, penso alle aree interne, dove i plessi scolastici si sono molto rarefatti in questi anni, dobbiamo introdurre una riforma rivoluzionaria, dal mio punto di vista, ridurre il numero degli alunni nelle classi e nei plessi, aumentando il numero degli insegnanti, aumentando il numero degli insegnanti, non solo stabilizzare i precari storici, ma avere una nuova leva di insegnanti, perché questo rivoluziona la scuola e questo fa in modo che torni ad essere una scuola dell'inclusione. È stato sbagliato dire che serve un organico Covid, perché alla nostra scuola servono insegnanti strutturati, non solamente per il tempo della pandemia, ma per sempre, e questa è la sfida più importante che noi abbiamo, penso, per cambiare la scuola, investendo, per cambiare il nostro paese, a partire da quello che è il fondamento della nostra Costituzione, nell'articolo 3, appunto, la scuola dell'inclusione.